E alla fine Berami è finito in Germania, proprio all'Hamburgo, del quale parlavamo già da settimane, una trattativa che il procuratore dello Svizzero stava infatti portando avanti da tempo. Per il centrocampista va a cominciare un'avventura importante, con la squadra tedesca che mai è retrocessa dalla Bundesliga, anche se ci sta andando vicina troppo spesso negli ultimi anni, specie la scorsa stagione, quando ha dovuto vedersela nello spareggio con la terza della Zweite Liga, il Greuter Furt, ringraziando il bomber Pierre-Michel Azogga, decisivo nel doppio confronto. Il tecnico Slomka si ritrova di certo un giocatore importante, un ruba palloni, ma bravo anche a rilanciare l'azione, chissà se il Napoli ha fatto bene a dar via Berami. Di sicuro adesso c'è la possibilità di liberare uno spazio nella mediana del gruppo di Benitez, l'allenatore spagnolo non ha mai nascosto l'intenzione di prendere un giocatore che lui già conosce, tipo Lucas Leiva, ma non vanno dimenticati i nomi di Javi Garcia e quello di Sandro, nomi ancora caldi anche se l'ultima pista porta a Fellaini del Manchester United. Il Belga rientra nei canoni economici del Napoli sotto l'aspetto ingaggio, guadagna quasi 2 milioni di euro l'anno, ma i Red Devils chiedono tanto e di prestito non se ne parla neanche, almeno per ora. Vedremo, intanto gli azzurri si apprestano al debutto al San Paolo contro i Greci del PAOK Salonico, qualche giorno dopo gli impegni con Barcellona e Paris Saint-Germain.